Mimmo Massi, il vice sindaco del comune di Amato. Per questa via crucis animata si è registrata la sinergia tra la chiesa, la proloco guidata da Velina Mazzei e l'amministrazione comunale. Effettivamente il fulcro, la base della riuscita, di manifestazioni del genere in una piccola realtà come la nostra non può che essere proprio il frutto della sinergia tra le associazioni e gli enti che operano sul territorio. Quindi non si può prescindere da questo, anche perché la nostra è una realtà piccola che conta circa 800 abitanti e come tutte le piccole comunità soffre molto il problema dello spopolamento. Quindi alla base proprio del mantenimento della nostra identità e di quelle che sono le tradizioni è essenziale che ci sia proprio sinergia, come succede anche in altre occasioni, tra l'amministrazione comunale, l'associazione proloco amato e la parrocchia dell'Immacolata. Oltre alla Via Crucis, che peraltro è giunta alla quinta edizione e riprendiamo dopo due anni caratterizzati dalla pandemia, ci saranno tante altre iniziative che comunque sono il frutto di questa sinergia, come dicevo prima, tra gli enti e le associazioni operanti nel territorio. Quindi dopo la Via Crucis sicuramente ci catapulteremo in quelle iniziative che rappresentano l'estate amatese e quindi sempre in sinergia con la proloco e la parrocchia dell'Immacolata organizzeremo la festa di San Francesco di Paola, il nostro patrono, che si festeggia la seconda domenica di agosto, sia da un punto di vista religioso che poi anche da un punto di vista civile. E quindi ci saranno attività tipo spettacoli musicali, lo spettacolo pirotecnico, la processione che ci sarà la seconda domenica di agosto e poi anche i giochi popolari che organizza la proloco e tante iniziative che andranno a soddisfare le esigenze di tutte le fasce della popolazione. Inoltre l'amministrazione comunale, sempre in collaborazione con la proloco amato, ha ormai avviato, concluso un progetto che ha come scopo quello di attirare turisti nella nostra piccola comunità. Quindi grazie alla collaborazione tra la proloco, il tour operator e con il patrocino dell'amministrazione comunale contiamo durante quest'estate di far venire persone, turisti da fuori, quindi non soltanto immigrati ma anche persone che non hanno radici con la nostra comunità dando loro la possibilità di stare nel nostro paese grazie anche al fatto che alcuni cittadini mettono a disposizione delle abitazioni che comunque non sono abitate. E quindi questo proprio per continuo il solco che abbiamo intrapreso da diversi anni e che è finalizzato proprio alla valorizzazione del nostro territorio e di quelle che sono le nostre tradizioni. Grazie a tutti!